Terra Mara, anticipazioni della puntata di domenica, 7 gennaio, dove vedremo un'effimera felicità per Zuleia e molti altri colpi di scena che riguardano soprattutto Hakan e Fekeli. Hakan, colpito dalle parole di Fekeli, che raccontava il suo senso di colpa per aver ucciso accidentalmente suo fratello, si allontana dal tavolo per fare una telefonata a Kadir, ma gli viene detto che è uscito da oltre mezz'ora. Nel frattempo Kadir, insieme ad un suo uomo, è fuori dal circolo e sta cercando la macchina di Fekeli per manomettere i freni e vendicare così la morte di Hakan. Intanto Fekeli si rivolge a Zuleia, dicendogli che Mehmet sembra una brava persona, ma di non fidarsi e riprendersi le azioni, in quel momento è di ritorno Fikret che racconta del suo sopralluogo. Intanto Hakan cerca Kadir fuori dal circolo, ma non lo trova e allora torna al tavolo dove Zuleia annuncia di voler tornare a casa per controllare i bambini, allora tutti decidono di andare via contemporaneamente. Fuori dal circolo tutti salutano Hakan, che guarda preoccupato Fekeli salire sulla sua macchina, che sa che è stata manomessa da Kadir. Quindi inizia a seguirlo con la sua auto. Contemporaneamente Kadir è a cena con il suo uomo e, soddisfatto per il lavoro che hanno fatto, gli dice che l'indomani si saprà la notizia che Fekeli è precipitato in fondo ad un burrone e tutti piangeranno al suo funerale, ma anche loro saranno lì per salutare l'assassino di Erkan. Hakan, sempre seguendo Fekeli, lo supera con la sua auto, poi, dopo qualche metro, finge di perdere il controllo della macchina e sbandandosi ferma proprio vicino alla sua auto, costringendolo ad una brusca frenata. Entrambi escono dalla macchina e Hakan chiede scusa dicendo di aver perso il controllo dell'auto e si offre di accompagnarlo in officina, di mandare i suoi uomini a recuperargli la macchina e di far controllare i danni subiti. Quindi Hakan si reca con Fekeli nell'officina di Kadir, che li guarda perplesso nel vedere Fekeli vivo. Allora Hakan gli spiega che ha avuto un piccolo incidente che ha coinvolto anche Fekeli e ha mandato dei ragazzi a recuperare la sua macchina, così da poter essere controllata. Hakan poi fa accompagnare Fekeli in ufficio. Quindi, rimasto solo con Kadir, gli chiede di spiegargli cosa stia succedendo e lui gli risponde di aver provocato l'incidente prima che la macchina di Fekeli si rompesse perché l'incidente che ha ucciso Hakan è avvenuto per caso e non è stata colpa di Fekeli, altrimenti avrebbe vendicato suo fratello lasciandolo morire. Il giorno seguente, mentre alla villa tutti stanno facendo colazione, arriva un postino che consegna a Zuleya un pacchetto proveniente dalla Siria. Zuleya lo apre e vi trova dentro un cofanetto contenente l'anello di Demir, poi leggi un biglietto con su scritto non preoccuparti, sto bene, tornerò presto, Demir. Zuleya è felicissima di leggere questo biglietto di Demir, così come Fekeli, Fikret e Lutfie, mentre Charmin e Betul si guardano deluse. Dopo l'esplosione di gioia di Zuleya e dei suoi amici per il biglietto di Demir che dimostra di essere vivo, Zuleya con Fekeli, Fikret e Lutfie entrano in villa confrontando la calligrafia del biglietto con uno scritto di Demir e notano che il biglietto è stato scritto con una calligrafia frettolosa e subito Zuleya, angosciata, ipotizza che Demir si trovi in situazione di pericolo. Intanto Charmin e Betul, che non sono state invitate a seguirli, si trovano in giardino e Charmin non lo accetta e si lamenta con la figlia, che lei si chiama Yaman e ha diritto ad avere notizie di Demir e vuole andare a sentire, ma Betul la ferma. Nel frattempo Akan è con Kadir e gli dice che devono organizzare una grande festa della circoncisione e anche una festa per le bambine con una distribuzione di doni e di denaro, in modo da ottenere il favore di tutta Cukurova. Perciò andrà a parlare con Zuleya, che è l'organizzatrice dell'evento. Intanto Fikret ha deciso di recarsi in Siria, dove ha un suo caro amico che sicuramente lo aiuterà nelle ricerche di Demir. Lo accompagna Cetin, che saluta affettuosamente la sua Gulten. Li raggiunge Charmin, che si avvicina a Fikret con una borsa di viveri, dicendo che li ha preparati Betul per il suo viaggio. Poi arriva Zuleya, che annuncia che andrà con loro perché non riesce a vivere se non ritrova Demir. Tutti la sconsigliano di andare e le dicono di rimanere con i bambini. Lei insiste, ma Fikret la convince, dicendole che non sanno cosa dovranno affrontare in Siria e le promette che riporterà a casa Demir. In quel momento arriva Khan spiegando che è lì per parlare con Zuleya. Fikret, contrariato, gli ribatte che lui è un partner dell'azienda e che gli affari si trattano in azienda e non in una casa e che può utilizzare il telefono per parlare con lei. Zuleya, imbarazzata, gli dice che Mehmet è un loro ospite e Fekeli incita Fikret a partire. Quando Fikret in macchina è con Fekeli, gli esprime le sue perplessità sul fatto che Hakan si recchie così spesso alla villa e che pensa che abbia uno scopo. Fekeli gli chiede di concentrarsi sulla ricerca di Demir e non pensare ad Hakan perché è un socio di Zuleya e a lui non deve interessare. Fikret però insiste ricordandogli che fino al ritorno di Demir i bambini sono affidati a lui e che teme che Hakan possa fare qualcosa di male mentre Zuleya è sola. Fekeli gli ribatte che lei ha la testa sulle spalle e se ha bisogno di aiuto glielo chiederà e che prima devono trovare Demir e poi pensare ad Hakan. Zuleya è con Hakan, Lutfie e Sharmin e gli racconta dell'anello e del biglietto che ha ricevuto da Demir. Sharmin come sempre si intromette dicendo che Demir sarà rinchiuso e starà lottando per la vita. Zuleya infastidita per la sua visione catastrofica le chiede di smetterla poi chiede scusa ad Hakan per il comportamento di Fikret spiegandogli che ne hanno passate tante e sospetta di tutti. A questo punto Hakan parla del motivo della sua visita dicendo che ha saputo che lei organizza una cerimonia di circoncisione e vorrebbe contribuire così che tutti li vedranno come partner della ordine. Zuleya accetta e lui la ringrazia per la fiducia che gli concede. Nel frattempo Betul è con Kadir e gli dice che è preoccupata per il ritorno di Demir perché lei ha aperto una società di comodo per far sparire le sue proprietà e lui se ne accorgerebbe subito. Kadir le assicura che anche se tornerà lui non riuscirà a fermarla. Poi le dice di non farsi prendere dal panico altrimenti inizierà a sbagliare e di lasciare fare a lui che sistemerà tutto. Quindi le fa firmare un contratto con il quale lei incarica la sua officina della manutenzione dei camion e dei macchinari degli Yaman ad un prezzo più basso di quello che sta pagando con l'altra officina per non insospettire Zuleya del cambio. Nel frattempo Fikret e Cetin sono giunti in Siria e studiano le mosse che devono fare per trovare Demir. Poi Fikret gli dice che non gli piace Mehmet che è apparso così all'improvviso e ha già dato a Zuleya il diritto di firmare per lui e si reca alla villa giorno e notte. Cetin gli risponde che quando troveranno Demir tutto ciò finirà e ritorneranno alla normalità. Quindi continuano il viaggio fino ad un hotel dove pernottare. Intanto alla villa Sanye e Lutfie parlano della cerimonia di circoncisione che sarà molto grande anche per il contributo di Mehmet e iniziano ad organizzare l'evento. Sanye le racconta che questa è una tradizione a cui Unkar teneva molto. Amin sentendo parlare della figlia inizia a piangere facendole commuovere e allora Lutfie dice a Sanye che il giorno della circoncisione faranno recitare una preghiera per Unkar. In quel momento arriva una telefonata di Fikret che dice a Lutfie di essere in hotel in Siria e di non preoccuparsi. Poi le chiede dov'è Zuleya e lei gli risponde che è in paese per affari. Lui preoccupato inizia a fare una serie di domande su dove si è andata e perché ma Lutfie devia il discorso e lo saluta. Zuleya è con Akan al circolo e lei gli dice che Demir quando scoprirà la loro collaborazione per la cerimonia della circoncisione si arrabbierà perché è sua abitudine fare tutto da solo. Akan allora la ringrazia per la fiducia che gli ha accordato. Intanto in Siria Cetin cerca di rassicurare Fikret che è molto preoccupato per la presenza di Akan dicendogli che Zuleya avrà sicuramente con sé degli uomini. Lui gli risponde che è preoccupato perché lei e i bambini sono affidati a lui e se succedesse qualcosa dovrà giustificarsi con Demir. Intanto al circolo tutti i presenti guardano Zuleya e Akan seduti allo stesso tavolo e criticano la presenza di Zuleya con un uomo. Poco dopo giunge Betul che si siede con loro ed iniziano a parlare dei preparativi. Akan chiede a Zuleya di organizzare come è abituato a fare perché non vuole interferire con ciò che lei decide solo divideranno tutte le spese. Poi si congeda e quando stringe la mano di Zuleya guardandola negli occhi Betul li guarda sospettosa. Rimaste sole Betul dice a Zuleya che c'è già Demir a Cukurova e non c'è bisogno di un altro come lui e che tutti li guardavano perché un uomo bello attira le attenzioni e le supposizioni. Zuleya infastidita chiede il conto e il cameriere le dice che Akan lo ha già saldato e Betul sorride. Poi Betul le dice che Kadir che è un amico di Akan ha fatto un'offerta per ottenere la manutenzione del loro camion nella sua officina e che offre un prezzo molto inferiore a quello che stanno pagando. Zuleya ascolta ma si dichiara perplessa per quella grande differenza di prezzo. Intanto Kadir dice al suo braccio destro che Betul gli aiuterà avendo la procura di Demir. Lui gli ribatte che lo farà soprattutto perché tutti pensano che Demir sia in Siria ma Kadir lo zittisce minacciandolo di non parlare di quell'argomento con nessuno. Li raggiunge Akan che riferisce a Kadir che per la festa organizzata dagli Yaman è tutto a posto. Kadir allora gli dice che ha conquistato la fiducia di Zuleya. Akan però gli chiarisce che lui vuole incontrare Demir e non sua moglie che è una brava persona. Kadir gli dice che dopo la lettera che ha inviato Demir tornerà presto ma Akan non è d'accordo perché il fatto che non abbia telefonato alla famiglia gli fa sospettare che c'è sotto qualcosa di non chiaro. Intanto Zuleya dice a Betul che Erjan non sarà d'accordo del cambio officina perché deve essere Demir a dare il permesso quindi ci penserà lui quando tornerà. Nel frattempo lei può negoziare un ribasso del prezzo con l'officina attuale. Betul cerca di obiettare su Erjan dicendole di non fidarsi di lui ma Zuleya la blocca chiedendole perché è fissata con Erjan che sono tanti anni che lavora per Demir senza fare errori ed ha la loro fiducia. Il giorno seguente Zuleya si reca in azienda per una riunione e lascia l'organizzazione della festa per la circoncisione a Sanye e Lutfie che si recano al villaggio. Sanye le dice che tutti la ameranno perché la gente riconosce subito una persona gentile. Inoltre lei aiuta e supporta Zuleya che dopo aver perso un car la considera come una madre. Lutfie le assicura che anche lei la ama e che ama tutte loro poi vedono Charmin che è posizionatasi al centro delle capanne e sta distribuendo vestiti ai bambini. Sanye le chiede cosa stia facendo e lei ordina di distribuire vestiti. Sanye le dice di andarsene e non interferire perché Zuleya lo ha chiesto di farlo a Lucie. Charmin le ribatte che non può parlarle in quel modo perché è una semplice contadina mentre lei è Charmin Yaman. Lutfie per evitare una rissa convince Sanye ad andarsene ma Sanye prima di andare via dice alla gente che la cerimonia è organizzata da Zuleya e dal suo socio Mehmet Cara e non da Charmin e allora tutti la benedicono. Tornata a casa Sanye è nervosissima e dice a Lutfie che Charmin è una serpe e che assicura che in mancanza di Demir cercherà di approfittare delle sue proprietà ma lei farà di tutto per impedirglielo. Nel frattempo in Siria Fikret con Cetin si reca a trovare il suo amico Sha'ap che lo accoglie calorosamente e gli chiede perché non gli ha mandato la persona che gli aveva raccomandato di proteggere. Fikret gli risponde che quella persona è suo fratello ritrovato da poco Demir Yaman che essendo nei guai doveva scappare. Poi però è scomparso all'improvviso e non sanno se si trova lì prigioniero di qualcuno quindi ha bisogno del suo aiuto per ritrovarlo. Intanto alla villa mentre Charmin sta dando ordini agli operai sull'allestimento per la cerimonia la raggiunge Fusun che le dice che sta facendo qualcosa che un car non le avrebbe mai permesso di fare e le incoraggia a spendere tutti i soldi degli Yaman. Charmin le risponde che alla villa non c'è più nessuno oltre lei e che deve evitare che la gente si approfitti della mancanza di Demir. Sanye e Lutfie si trovano nelle vicinanze ed hanno sentito tutto e allora mentre Lutfie si avvicina a loro Sanye sale sul pick up e mette in moto. Poi facendo retromarcia Uttar Charmin che di spalle cade a terra urlando. Tutti accorrono a soccorrerla mentre Sanye disperatasi fintamente si giustifica dicendo di aver pigiato il pedale per sbaglio ma Charmin l'accusa di averlo fatto di proposito. Kadir è nel suo ufficio con Betul e le dice di stare tranquilla perché hanno preso ugualmente la manutenzione dei mezzi degli Yaman. Betul gli dice che teme la presenza di Erjan che è protetto da Zuleia e le è fedele. Kadir allora le fa notare che è una bellissima donna e che può irritirlo come vuole per portarlo dalla sua parte. Intanto alla villa Lutfie che ha capito quale fosse lo scopo di Sanye le chiede se è giusto quello che ha fatto e che poteva ferirla seriamente. Sanye le risponde che è stata attenta e che a Charmin non succede mai qualcosa di male e che era l'unico modo per impedirle di intromettersi nei preparativi per la cerimonia. Contemporaneamente Charmin è in ospedale con una gamba ingessata e si lamenta sia del dolore sia perché Fusun non è riuscito a contattare Betul. Arriva Zuleia e Charmin si lamenta ancora di più ma Haikut visti i risultati degli esami a cui l'ha sottoposta dice che può lasciare l'ospedale perché non ha altri problemi. Poco dopo arriva Betul e Charmin le dice che stava per morire e che Sanye ha cercato di ucciderla ma sia Zuleia che Fusun affermano che è stato un incidente ed è stata solo urtata dal pick up. Terminano così queste anticipazioni. Il viaggio in Siria di Friket e Chetín sembra proprio essere una pista sbagliata ma vedremo tutto quello che succederà nelle prossime puntate. Io sono Stefania come sempre vi aspetto per i prossimi video e le prossime anticipazioni. Vi mando un abbraccio e ci sentiamo nei commenti.